Ce ne siamo occupati pure noi attraverso alcuni spot pubblicitari che abbiamo proposto come editore e redazione giornalistica, perché sollecitati dalle numerosissime persone che hanno vissuto in modo grave e difficile il dramma della ludopatia, la famigerata dipendenza dal gioco d'azzardo, soprattutto quello legato alle cosiddette macchinette mangiasoldi che sono ormai presenti in moltissimi locali e nelle specifiche sale giochi. Adesso per il gioco scattano delle regole nuove, almeno a Campobasso, che di fatto si allinea ad altre città italiane. Infatti il sindaco Antonio Battista ha voluto dare un segnale di grande civiltà, firmando una specifica ordinanza con la quale pone dei limiti abbastanza interessanti riguardo gli orari nei quali è permesso il funzionamento delle apparecchiature del cosiddetto gioco legito, convincite in denaro. Il sindaco ha inteso recepire una proposta fatta tempo fa dall'assessorato comunale alla Polizia Municipale, dimostrando di voler impegnarsi a rispondere in positivo alle tante richieste dei cittadini e di alcune associazioni a tutela dei consumatori per questa sorta di calamità moderna che è rappresentata dalla patologia del gioco, che sempre più sta colpendo persone che sentono una sorta di bisogno compulsivo verso il meccanismo del provarci per un facile guadagno o per recuperare le perdite, spesso trovandosi nella fortissima difficoltà di aver sperperato in centisomme e in molti casi bruciando in poche ore uno stipendio e dunque sottraendo risorse spesso uniche e importanti alle loro famiglie. L'ordinanza è concepita nel divieto di giocare durante alcune ore, in quella che viene definita pausa pranzo e nelle ore serali dopo le 21, proprio in quei momenti in cui nei bar e nelle sale da gioco si danno appuntamento gli abitui delle macchinette. Dunque, entrando nel dettaglio, sarà possibile il funzionamento delle apparecchiature la mattina dalle 10 alle 13 e per il pomeriggio e sera dalle 16 fino alle 21 tutti i giorni, compreso quelli festivi. Il provvedimento riguarda tutti i luoghi in cui sono sistemate le macchinette, le sale da gioco, i bar, i ristoranti, i circoli privati, le rigividorie dell'otto, le sale bingo. Le apparecchiature dovranno rimanere assolutamente spente durante i periodi vietati, per i trasgressori scatteranno sanzioni importanti che vanno dai 500 ai 1500 euro per ogni macchinetta. Ultima cosa, ma non meno significativa, bisogna che ogni locale sponga gli orari di apertura e chiusura, oltre al materiale informativo sui rischi del gioco d'azzardo, altrimenti scatta anche qui una multa di 100 euro.